Siete dalla regia? Ardingo Scarsella mi ha dato l'ok, siamo qui nell'angolo intervista insieme a Stefano Carrer, il responsabile tecnico della Nazionale Giovanile Fitarco. Un ruolo tanto importante ma che dà anche tante responsabilità, vero Stefano? Sì, ci sono molte responsabilità perché dobbiamo costruire dei progetti, portarle avanti e si cerca sempre di fare del proprio meglio, anche se non sempre è facile, molte volte è complicato. E poi l'altra grande responsabilità è nel momento in cui si devono selezionare dei giovani, lì bisogna fare le cose molto bene e non commettere errori perché andare a castigare magari un ragazzo che non merita è una cosa che non va fatta, bisogna sempre osservarli molto bene e nel momento in cui si fa la scelta deve essere ben oculata e ponderata. È vero, un no ai ragazzi di giovanità potrebbe essere pesante da digerire e si rischia di bruciarli alcuni ragazzi se uno non gli dà fiducia. È vero, bisogna stare attenti perché alcune volte magari può anche far bene, lasciar fuori qualcuno in alcune occasioni perché magari gli serve per maturare di più, per riflettere un attimo e ricominciare da capo. però se non viene capita, se magari il giovane non riesce a percepirla fino in fondo potrebbe anche essere deleterio perché per alcuni periodi potrebbe non rendere più o addirittura arrivare anche a un abbandono che di solito non c'è ma bisogna sempre stare molto attenti per questo. Ecco Stefano, tu sei qui ai campionati italiani proprio per seguire i tuoi ragazzi fino a pochi minuti fa stavi proprio dietro gli junior naturalmente non sono tanto importanti i risultati del campionato in sé quanto in prospettiva visto che questo 2014 è per noi e per voi in special modo una stagione davvero importante, lo scorso anno ai mondiali di Vuxi siamo riusciti a conquistare il posto nel femminile per le Olimpiadi giovanili, ci manca ancora quello maschile e ce lo giocheremo ai campionati europei giovanili a Ljubljana in Slovenia insomma un impegno importante dove bisognerà fare di tutto in questa gara di qualifica. È vero, siamo stati bravi e fortunati con le ragazze che in Cina appunto si sono qualificate sapevamo lì di avere un buon vivaio, una buona squadra, sapevamo di essere un po' dietro nel maschile però abbiamo già avuto dei buoni segnali perché un ragazzo in particolar modo non è riuscito a qualificarsi per poco ma ha tirato bene. Questa gara è importante perché serve come selezione per i prossimi campionati del mondo che sono in Francia, in Dori, in febbraio ma l'appuntamento più importante dell'anno è a maggio in Slovenia dove abbiamo i campionati europei e in questi campionati europei noi faremo il possibile per qualificare un maschio. Ci sono tre posti disponibili in Europa che non sono tantissimi, vero Stefano? Non sono tanti perché sono rimaste fuori nazioni forti come noi purtroppo è rimasta fuori la Russia, è rimasta fuori l'Ucraina, è rimasta fuori noi per cui sarà una lotta assieme ad altre 10-12 nazioni per conquistare questi tre posti e noi faremo di tutto per farcela. È l'obiettivo principale per quest'anno. Ho ottenuto questo obiettivo poi abbiamo il tempo per prepararci al massimo cosa che stiamo già facendo nel femminile per affrontare anche bene le Olimpiadi qualora ci qualificassimo con tutti e due i settori sia il femminile che il maschile. Noi chiaramente abbiamo iniziato nella prima edizione dei giochi olimpici giovanili subito con una medaglia, ricordiamolo, quella di Gloria Filippi nel misto e ci piacerebbe chiaramente come hanno fatto i ragazzi delle senior riuscire a confermarci, non sarà facile ma sappiamo già da adesso che l'impegno vostro e soprattutto di questi ragazzi che diciamolo per loro è veramente un grande sogno quello di andarsi a giocare un'Olimpiadi giovanile quando ne parlate gli brillano gli occhi. Eh sì, proprio l'altra sera durante un raduno a Rovereto ho avuto l'occasione di invitare Gloria Filippi che appunto ha vinto l'oro e ho fatto relazionare a lei, a tutti i ragazzi presenti com'era questa esperienza delle Olimpiadi giovanili i ragazzi sono rimasti proprio imbalsamati ad ascoltarla sperando che tra di loro ci fossero appunto quelli che riescono a vivere un'esperienza come ha vissuto lei lei l'ha vissuta proprio alla grande perché è arrivata a vincere l'oro l'importante sarebbe comunque arrivare intorno a medaglie anche per per chi deve andarci. Certamente insomma uno non può nemmeno sempre chiedere la medaglia d'oro basta che non è che la maglia dell'Italia porta con sé per forza una medaglia d'oro a noi interessa che questi ragazzi in fondo crescano e che diventino e che siano il vivaio di una nazionale che poi da senior possano comunque confermare tutte le prospettive che ci danno adesso insomma è importante la conferma per questi ragazzi non solo la medaglia adesso quando sono allievi o junior sì certo in effetti anche perché poco fa ti vedevo che parlavi insieme a Vizio e Van Alten proprio evidentemente avete un rapporto proprio perché curate insieme la crescita di questi ragazzi sì in effetti questo è molto importante con Van Alten abbiamo un'ottima intesa lui è molto attento anche a quello che fa il settore giovanile e non solo quest'anno ha voluto visionare assieme a noi tecnici e tutto lo staff del settore giovanile è tutta una serie di giovani e addirittura ne ha selezionati quattro due maschi e due femmini e se li ha portati a lavorare con un gruppo che viene seguito direttamente dallo staff della squadra nazionale senior è una cosa che facciamo in simbiosi ci siamo già trovati abbiamo stabilito appena termina la gara di ritrovarci per discutere un attimo sulle persone anche da selezionare e soprattutto su come anche affrontare questa prossima avventura il campionato del mondo indoor per cui è un rapporto che sta funzionando molto molto bene di questo siamo davvero contenti e proprio a proposito della crescita del nostro movimento chiaramente sempre in prospettiva nazionale ecco quali sono i progetti che la federazione sta portando avanti e con l'aiuto di voi tecnici quali sono gli obiettivi che speriamo di riuscire a raggiungere il prima possibile sì allora noi quest'anno abbiamo cambiato un po' le modalità rispetto a tutti gli altri anni lo scopo nostro sarebbe quello di arrivare ad avere una scuola federale un 8, 10, 12 ragazzi fermi lì che studiano e tirano con l'arco in un unico luogo questo ancora non ci è stato possibile allora abbiamo optato per questa soluzione intanto 4 ragazzi sono seguiti 10 giorni al mese dalla nazionale senior e per gli altri noi non potevamo più puntare su moltissime persone abbiamo dovuto concentrarsi su 12-15 persone e su questi garantiamo un percorso dove li vedremo con una frequenza maggiore riusciamo a vederli quasi ogni mese per 3-4 giorni poi d'estate che terminano le scuole li vedremo anche per 10-11 giorni questo serve per crescere e soprattutto per portare dei giovani ad affrontare in futuro gli impegni con la nazionale senior questo lo faremo per un anno o due sperando che magari già dal prossimo anno o tra due o tre anni di riuscire a fare questo centro federale dove portiamo i migliori giovani in Italia in una determinata località in una struttura idonea per poter studiare e soprattutto per poter tirare tutti i giorni con l'arco si capisce che è un discorso non facile da realizzare in tempi brevi perché c'è di mezzo una delle cose più importanti per questi ragazzi che è la scuola allontanarli dalla famiglia ricordiamo che si parla di ragazzi normalmente minorenni e quindi bisogna fare una scelta di vita per alcuni di questi magari abitano a centinaia di chilometri da dove uno li vorrebbe portare devono allontanarsi dalla famiglia sappiamo che non stiamo parlando di giovani calciatori che a 17 anni hanno la prospettiva di guadagnare milioni di euro insomma è una situazione non facile da gestire però come dire con la volontà di voi tecnici e soprattutto della dirigenza che sta cercando veramente di fare il possibile per raggiungere questo risultato un passo alla volta Stefano ci stiamo avvicinando Sì è vero, in effetti di questo ne abbiamo discusso con la dirigenza come dicevi te, con il presidente, con i vice presidenti in commissione tecnica è un percorso che dobbiamo affrontare dispiace perché qualcuno è rimasto per il momento fuori le porte non sono chiuse però purtroppo quando le risorse sono quelle che sono che sono buone comunque noi dobbiamo concentrare l'obiettivo su alcuni soggetti e abbiamo cominciato a farlo il prossimo anno li vedremo probabilmente ancora di più e loro sanno che devono impegnarsi devono far bene a scuola e devono impegnarsi gli ho raccomandato oltretutto che siano a posto per il 20 di maggio perché quest'anno abbiamo grossi impegni il campionato europeo è a fine maggio poi abbiamo le gare di selezione per le Olimpiadi i primi di giugno e un'altra gara di valutazione per una gara che c'è a Mosca sempre a metà giugno per cui loro dovrebbero essere tranquilli già al 15-20 maggio di essere a posto con la scuola è una delle prime cose che raccomandiamo perché se hanno problemi a scuola poi hanno anche difficoltà ad allenarsi ed è un problema sopra l'altro che è difficile da affrontare ed è difficile poi ottenere i risultati ecco questo è un discorso che non solo tranquillizza noi che stiamo qui ma soprattutto i genitori di questi ragazzi che magari vedono nel figlio un talento insomma tutti sappiano che la federazione e i tecnici della nazionale sanno perfettamente che per questi ragazzi è importantissimo avere un buon risultato negli studi perché poi tutto il resto viene di conseguenza qui non si cerca di far crescere dei giovani campioni a discapito di qualsiasi cosa perché sappiamo che il futuro di questi ragazzi ha come base e come radice fondamentale lo studio, l'istruzione dopodiché si coltivano i talenti e speriamo veramente di vedere tanti altri campioni così come la nazionale italiana ci ha abituato a vedere nei campi internazionali ma con calma insomma li facciamo crescere e vedremo ci daranno sicuramente delle belle soddisfazioni devono crescere alla pari diventare bravi campioni bravi uomini brave persone e realizzarsi possibilmente in entrambi i settori poi i più bravi possono anche un futuro tirare solo con l'arco perché oggigiorno c'è anche questa possibilità però non devono tralasciare gli altri aspetti importanti finché sono giovani la scuola e nel momento in cui studiano devono cercare di fare il meglio possibile perché un domani potranno affrontare meglio la vita e possono comunque rimanere buoni arcieri ugualmente Stefano noi veramente ti ringraziamo per queste parole di saggezza che ci hai dato a noi non resta che augurare un grande in bocca al lupo a te ma anche a tutti i tuoi collaboratori dello staff della nazionale che a questo punto citerei perché è giusto visto che il lavoro non lo fai da solo ma lo fai insieme a loro sì abbiamo quattro bravissimi tecnici abbiamo per l'arco compound Flavio Valesella poi abbiamo per il settore olimpico giovanile Matteo Bisiani e Paola Bertone e per gli altri atleti della nazionale Gianni Falzoni questi sono i bravi allenatori che collaborano nel settore giovanile avete creato un gruppo affiatato che sta veramente vicino ai ragazzi e questi ragazzi lo diciamo anche ai genitori che ci ascoltano stanno in buone mani stanno in buone mani grazie ancora Stefano un grande in bocca al lupo noi chiaramente vi seguiremo attraverso tutti i nostri canali nelle vostre trasferte internazionali incrociamo le dita e facciamo un in bocca al lupo ai ragazzi è un grosso in bocca al lupo e grazie a tutti voi grazie a Stefano Guerrere grazie a tutti i nostri canali